Mi dispiace Bonny per quello che ho fatto prima, mi potrai perdonare? Ma certo che ti perdona, noi te siamo vicini, ricordatelo eh? Ok? No, no, mi dai stonzando! Ciao ragazzi, di che cosa parlate? Voglio restare un po' solo per favore No Foxy ti prego, voglio venire con te Ma che cosa è successo? No, niente, stavamo parlando, niente di che Cosa succede Chica? Non lo so, ho visto che parlavano e non mi hanno detto di che cosa Ah, io non lo so